Bentornati e bentornate sul canale, sono Green Van Ship, primo video del 2022, spero abbiate passato bene sia le vacanze di Natale che l'ultimo dell'anno. Noi oggi proseguiamo e siamo al sesto piano del castello della Principessa, dunque vediamo un po' quali rebus dobbiamo superare oggi. Prima di tutto solleviamo il montacarichi, vediamo cosa c'è da questa parte, attento alla testa, lo sguardo che ha non è molto invitante e infatti stava per farci crollare addosso gli spuntoni, quindi adesso cos'è che si può fare qui, vediamo un po'. Ok, bevimi! Ci siamo rimpiccioliti, guardate che roba! Adesso riusciamo a passare, state a vedere! E eccolo qui! Ce l'abbiamo fatta! Allora, passa silenziosamente oppure viceversa, cioè? Allora, procedere ad agio non è la soluzione. Alzare e diminuire il volume invece sì. No, non così, così ho sbagliato io. Aspettate un attimo. Eccolo qua. Un po' di meno. Bene. Abbassa. Ecco. Vediamo se si riesce a passare in columi. Ok. Benissimo. Ma guarda che bella chiave! Mi sembrava ci fosse il barbatrucco. La chiave ti sta prendendo in giro e in effetti guarda dov'è riemersa. Guarda la dispettosa. Abbiamo a che fare con una chiave dispettosa. Allora, svegliamo il pipistrello. E devi bloccarla in qualche modo. Adesso ci provo. Adesso provo a bloccare la chiave. Vediamo come si può fare. Magari riesco a saltarle addosso? No. Non si riesce. Adesso la tengo ferma con un dito, eh? Ha funzionato. Basta fare tap con un dito sulla chiave in modo da bloccarla. Ha funzionato. Ha funzionato. Qui ci sono i fantasmini. Ci sono altri fantasmini. Vediamo un po'. Cos'è quella cosa? Mi ha colpito. Mi ha colpito. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ok. Adesso attiriamo anche quest'altro fantasmino. Perché se avete notato... Guardate. Il fantasmino è stato risucchiato e una delle icone si è illuminata. Quindi adesso noi in teoria in teoria possiamo sbagliare tutto nella vita. Come ho fatto adesso che ho già capito l'errore. Ho già capito. Aspettate un attimo. Allora, facciamo le cose serie. E1. Adesso ci prendiamo il masso. Bene. Attiriamo questo fantasmino. Perfetto. Il masso lo riportiamo qui. No. No. Aspetta un attimo. Serve dall'altra parte. Ok. Quel cancello rimane aperto. Questo si può anche chiudere. Vediamo se mi seguono fino alla fine. Abbiamo anche preso il pipistrello. Eccellente. Ha funzionato. Ha funzionato proprio a meraviglia devo dire. nascondi la cassa. E dove la nascondono? Nel cespuglio. Sembrava troppo bello. Vediamo cosa c'è qui. Una leva. C'è una leva. Sono comparse le scale. Oh. Aspetta. Aspetta. Guarda. Allora dobbiamo metterli dentro la scatola. Aspetta un momento. Facciamo così. Facciamo così. Ottimo. Solleviamo la scala adesso. Tiriamo la leva. Perfetto. Qui non succede niente. Eccolo qua. Allora la scatola è nascosta. In teoria. ci manca la chiave. Dove recuperiamo la chiave? Qui. Fantastico. Guarda che bello. Abbiamo superato il livello. Qui invece cosa bisogna fare? Allora magari gli spuntoni sono finti. O magari no. Magari sono veri. Non sono finti. Cosa possiamo fare? Possiamo muovere la chiave? Sì. Allora possiamo trascinare a nostro piacimento la chiave. Non è eccessivamente difficile. Eccola qui. Benissimo ragazzi. Salti rimanenti 1. salti rimanenti 0. Avrei dovuto immaginarlo. Allora come possiamo fare? Aspetta. Ah ma guarda. Si solleva. Vedi? Allora facciamo così. Saltiamo qui. Bene. E adesso? Non possiamo saltare. Quindi dobbiamo stare bassi. Proviamo qui. Ah ha funzionato. Meraviglioso. Simone dice Azzurro. Fucsia. Azzurro. Azzurro. Fucsia. Azzurro. E si è aperto l'ultimo cancello. Fucsia. Azzurro. Fucsia. 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 Allora. Ho sbagliato. Devo rifare tutto da capo. Devo rifare tutto da capo. Azzurro. Aspetta. Azzurro. Fucsia. Azzurro. Perfetto. E uno. Lo abbiamo aperto. Fucsia. Azzurro. Fucsia. Fucsia. Allora. Fucsia. Azzurro. Fucsia. Eccolo qua. Me lo aspettavo. Azzurro. E si è sollevato bene. Adesso. Azzurro. Fucsia. Azzurro. Fucsia. Verde. Azzurro. Fucsia. Azzurro. Fucsia. E la torcia. Guardalo lì. Guarda. La torcia di sinistra aveva un colore diverso. Un'altra via. In un'altra maniera. Vediamo un po'. Azzurro. Fucsia. Azzurro. Azzurro. Fucsia. Azzurro. E si è aperto il primo cancello. Cioè il contrario di prima che si era aperto l'ultimo. Fucsia. Azzurro. Fucsia. 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 Azzurro. Fucsia. Fermi. Fucsia. Eccolo lì. E si è aperto il secondo. Adesso vediamo un po'. Rosso. Giallo. Verde. Blu. Arancione. Geronimo. Eccolo qua. C'era il barbatrucco. E lì a sinistra cosa c'è? C'è un vulcano. Un geyser. Che roba è? Che roba è? Che roba è? Cos'è stata? Cos'era quella cosa? Non capisco. Aspettate un attimo. Allora se si tira la leva gialla succede qualcosa. Questo qui non è che devo saltarlo via. No. Non bisogna saltarlo via. E' stato un errore. Un errore tattico. Che cosa ho appena fatto? Che cosa ho appena rifatto? Dunque. No. Non è questo. Secondo me è quest'altro. Bisogna capire a cosa serve il pulsante blu. Ah l'ho vista. Aspetta aspetta aspetta. Aspetta. Allora. Il pulsante blu sposta uno spuntone. E il giallo invece lo fa scendere. Avete visto? Bene. Allora adesso. Se tanto mi da tanto. Bisogna andare sopra al geyser. Vediamo se funziona. Avete visto? Abbiamo danneggiato una tubatura. Ed esce l'acqua. Per spegnere le fiamme. O qualunque cosa sia insomma. Ok. Ha funzionato. Adesso non so se riesco a prendere anche il pipistrello che manca. No. Perché i pulsanti sono bloccati. Peccato. Niente ragazzi. Eh vabbè. Peccato. L'importante è aver concluso il livello. Ok. Allora il video di oggi termina qui. Grazie per avermi seguito. Iscrivetevi al canale. Mettetemi un bel mi piace. Commentate e condividete. Per non perdere nessuna novità. Cliccate sulla campanellina degli avvisi. E mi raccomando. Non dimenticate di fare una visitina ai miei soul chat. Trovate i link in descrizione. Ciao a tutti. Allora il video di oggi. Grazie.